In soli cinque minuti, si è verificato un tumulto inaspettato negli studi di Uomini e Donne, con un nuovo litigio epico che ha coinvolto Tina Cipollari. Quello che è successo dopo il litigio ha lasciato tutti senza parole, persino Maria, la conduttrice del programma. Recentemente, sembra che tutto si stia amplificando, dai litigi alle urla, dai tronisti che vanno via a quelli che ritornano. C'è un clima esplosivo sul set del dating show condotto da Maria De Filippi. Tra le novità eclatanti, uno dei corteggiatori di Ida Platano, Ernesto Russo, ha lasciato il programma in modo totalmente inaspettato, rivelando di sentirsi deluso da Ida, poiché hanno «due mondi diversi». Ha dichiarato al sito di Isaekia che ci sono stati tentativi di farlo apparire male in studio. E la sua decisione è stata influenzata anche da un lutto personale. Ma la notizia più sciocante è stata il forte litigio tra Tina Cipollari e Beatrice, una corteggiatrice di Brando. Tina ha criticato aspramente la giovane, sostenendo che, data la sua età, non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo senza scuse. Questo ha portato Beatrice alle lacrime, fuggendo dallo studio e dichiarando di non poter andare avanti così. La reazione del pubblico sui social è stata divisa, con alcuni che sostengono Tina e altri che si schierano dalla parte di Beatrice. La discussione è aperta. Cosa ne pensate di queste notizie? Lasciate un like e commentate la vostra opinione per poter discutere. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Arrivederci e ci vediamo al prossimo episodio.